Bentornati al TG7. Controlli in pieno centro a fondi ad opera dei comandi dipendenti della Compagnia Carabinieri di Latina, nell'ambito di specifico servizio di potenziamento del controllo del territorio e finalizzato al contrasto dello spazio di sostanze stupefacenti dei reati predatori e dal controllo della circolazione stradale. Nel corso del servizio svolto con l'ausilio di unità cinofila antidroga del nucleo Carabinieri di Roma, i militari hanno identificato e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione una 32enne del posto con precedenti di polizia. La donna è stata sorpresa alla guida di un ciclomotore Aprile a Scarabeo 50, risultato provento di un furto perpetrato a Sabaudi allo scorso 2 maggio. I militari hanno passato a setaccio, il centro cittadino, hanno effettuato quattro perquisizioni, controllato 47 persone e 45 automezzi, segnalato all'autorità prefettizia un assuntore di sostanza stupefacente, sequestrato 0,4 grammi di eroina, elevato quattro contravenzioni al codice della strada, sequestrato due veicoli e controllato quattro esercizi pubblici. Ha tentato di truffare un anziano, ma l'epilogo della vicenda non è stato quello previsto dall'impostore. È accaduto attorno alle 11 di ieri lungo via Aprile a lato Monte San Biagio, quando un settantenne di fondi, alla guida della propria panda, avrebbe urtato la Fiat punto del presunto truffatore sui 25-30 anni. Come riporta il quotidiano Latina Oggi, fermatisi, i due conducenti hanno cominciato a discutere. Il giovane infatti accusava l'anziano di aver urtato la propria auto danneggiandola. In primo momento il truffatore ha chiesto il denaro necessario alla riparazione o di procedere a una constatazione amichevole dell'incidente mediante CID. Tuttavia l'anziano, insospettito dalla situazione, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Prima ancora che la vittima si mettesse in comunicazione con polizia o carabinieri, il giovane si è dato alla fuga, dileguandosi senza lasciare all'anziano la possibilità di registrare il numero di targa. E cambiamo decisamente argomento. Si svolgerà giovedì 25 maggio prossimo a Roma, nel prestigioso Auditorium del Massimo all'EUR, il primo congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Ambulanti che avrà come tema il commercio su area pubblica e la direttiva Volkestein. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Imprese Oggi, la quale si è messa prontamente a disposizione con i propri dirigenti ed associati dei mercati di Roma, di Napoli e del Basso Lazio. Nell'articolato programma che caratterizzerà il congresso, il segretario generale Marrigo Rosato si illustrerà la possibilità di una riorganizzazione del vasto mondo associativo che in Italia è stato protagonista del movimento No Volkestein raggiungendo risultati concreti. Alla luce della profonda crisi di rappresentanza delle cosiddette associazioni di categoria, in particolare della FIVA Confcommercio, il fulcro dell'intervento di Marrigo Rosato sarà la costruzione di un'Italia di un forte ed autonomo soggetto rappresentativo che sappia valorizzare i mercati e tutelare gli ambulanti. Saranno oltre 200 gli operatori delle province di Latina, di Frosinone e di Napoli che parteciperanno al congresso durante il quale interverranno rappresentanti delle forze politiche e del governo per la illustrazione delle soluzioni per la fuoriuscita definitiva della direttiva Bolkestein. Striscia la notizia arriva a fondi con il suo Charlie Gnocchi nei panni di Mr. Neuro per parlare di un clamoroso caso di spreco di denaro pubblico. Si tratta della pompa idrovora dell'acqua chiara risalente al XIX secolo e del suo enorme patrimonio culturale ed economico sprofondati nel più totale abbandono. La troupe di Striscia la notizia ha fatto visita al sito restaurato nel 2000 con finanziamenti per milioni di euro disposti dall'Europa per la realizzazione di un centro multimediale che tramandasse la storia di una tale memoria archeologica di fondi. Dal sopralluogo dell'operatore è emerso lo stato di degrado in cui versa la struttura abbandonata alle intemperie e ai vandali che non hanno esitato a distruggere quello che rimaneva. Un caso che non vedrà un lieto fine dato che serviranno altri fondi per recuperarlo. E apriamo la pagina dedicata agli eventi. Fervono i preparativi per uno dei primi appuntamenti che caratterizzerà l'estate fondana 2017. Si tratta della nuova fiera intitolata ai Santi Pietro e Paolo che popolerà le strade del centro cittadino il prossimo 30 giugno. Per l'occasione a poco più di un mese il comune di fondi ha diffuso una locandina per promuovere sui social l'evento. Numerose sono le richieste finora pervenute per l'assegnazione dei posteggi distinti per settore merceologico, somministrazione alimentare, esclusi prodotti ittici, non alimentari e produttori agricoli. La fiera si caratterizzerà per i molteplici eventi che andranno ad arricchire l'appuntamento fieristico, intrattenimento, degustazione di prodotti tipici, eventi religiosi, mercatini di antiquariato e iniziative culturali. Creare una movimentazione commerciale nel periodo estivo in aggiunta alla tradizionale fiera di Santo Onorato del 10 ottobre può rappresentare un'ulteriore occasione per incentivare l'economia cittadina, affermano il sindaco di fondi Salvatore Demeo e l'assessore al commercio Giorgia Salemme, perché numerose sono le attività commerciali che potrebbero trarre beneficio da questa nuova fiera, che rappresenta anche un'opportunità di promozione della città e del territorio, considerato l'elevato afflusso di turisti a fine giugno nelle strutture dicettive di fondi e delle città limitrofe. Condividere un nuovo modo di fare scuola. Venerdì 26 maggio alle ore 10 l'IT e Libero Delibero, affiancato dalle scuole secondarie di primo grado Garibaldi e Milani ed in collaborazione con Taxi 1729 SNC, presenterà la lezione e spettacolo Scegli Cosa Voglio, un'opera nata da un progetto di educazione finanziaria che indaga i meccanismi della più basilare delle operazioni economiche, la scelta. In Scegli Cosa Voglio si raccontano le conquiste di quella scienza molto affascinante e poco nota al pubblico che prende il nome di economia comportamentale che mette insieme le competenze di psicologi, matematici, filosofi ed economisti di tutto il mondo, che ha scosso le fondamenta dell'economia classica e che balsa il premio Nobel per l'economia a uno dei suoi fondatori, lo psicologo Daniel Kahneman. Il Scegli Cosa Voglio è il risultato di studio di Taxi 1729 SNC realizzato in partnership con la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio e con la consulenza scientifica del professore Vincenzo Crupi, direttore del Centro di ricerca di logica, linguaggio e cognizione dell'Università di Torino. Nel corso dello spettacolo affiancheranno gli insegnanti degli specialisti nel settore a cui si aggiungerà la partnership con la Banca Etica di Latina. All'attività prenderanno parte le classi seconde e terze delle scuole Garibaldi e Milani e tutti gli alunni dell'ETE. Si è svolta ieri, alla presenza del copiosissimo pubblico del Salone Internazionale del Libro di Torino, la presentazione del nuovo romanzo edito da 26 lettere edizioni lassù sui altopiani, scritto a quattro mani da Giuseppe Scarpino e Fabio Arduini. Nella cornice ideale della Sala Vorio della Fiera, alla presenza degli autori e del direttore della casa editrice Riccardo Antonilli, il libro ha riscosso un notevole successo, stimolando la curiosità e l'attenzione dei presenti. Una grande occasione per un libro che coniuga insieme temi quotidiani come l'amicizia e lo sport, ma quello sicuramente più ecumenico e gravoso rappresentato dalle condizioni di vita nel cosiddetto terzo mondo. Questa edizione del TG7 termina qui, per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazionichiocciolatvcanalesette.it sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie.